Ci spostiamo in Repubblica Ceca, nel pieno centro storico della capitale Boema, dove Alfredo Iorio, docente di fisica nato e cresciuto in Irpinia, nel 2014 ha creato a Praga una scuola italo-ceca del primo ciclo di istruzione, due culture e tre lingue, e questo lo slogan della scuola, che è una sezione dell'Istituto Scolastico Pubblico Gutiarkovsky. Ascoltiamo Alfredo Iorio, che da vent'anni, a fianco alla ricerca in fisica, si dedica all'innovazione dell'insegnamento a tutti i livelli in Irlanda, Italia e Repubblica Ceca. L'idea nasce in Irlanda, già ormai vent'anni fa, insegnando matematica a dei ragazzi che avevano un'età compresa tra i 7 e i 12 anni. Questa esperienza mi ha molto segnato, perché mi ha fatto toccare con mano l'importanza di intervenire a un livello il più alto possibile già a quell'età. Mi ha convinto addirittura che i più bravi vanno a insegnare a quella fascia d'età. In più, poi, la scuola appunto messa in piedi a Praga è italiana, perché da italiano, girando il mondo, ho scoperto che l'Italia non solo è sicuramente importante per il cibo, la moda, le macchine, ma quello che va più in profondità è la sua cultura universalistica, perché studiare la cultura occidentale equivale a studiare la cultura italiana per una larga parte. E questo approccio universalista, come è recepito all'estero? Qui a Praga è recepito benissimo, infatti non è stato difficile incontrare persone disponibili ai più alti livelli, dal vice ministro per l'istruzione al comune di Praga 1. Da questo punto di vista è stata la custodia italiana abbracciata totalmente, tant'è vero che la maggior parte dei ragazzi che frequentano questa scuola è cieco, nel senso sia da parte di madre che da parte di padre, cioè non ha nessun legame diretto di sangue con l'Italia, è a quella scuola per apprendere la cultura italiana, per crescere in questa cultura che loro, chiaramente la famiglia, apprezza e reputa qualcosa di importante. E lei pensa che questo esperimento che ha messo in piedi in Praga può essere ripetuto altrove? Sicuramente sì, ne sono convintissimo. La cosa che dicevo un attimo fa, l'entusiasmo è stato talmente forte e travolgente, la scuola ormai conta 200 studenti ed è una realtà fermata, radicata a Praga solo in pochissimi anni. In più ho avuto contatti anche con altre città, qui in Repubblica Ceca, sono sicurissimi che questo progetto si potrebbe ripetere in tutte le città importanti della Repubblica Ceca esattamente così com'è, diciamo, con le due culture e tre lingue, nel formato presentato qui a Praga. Modificando uno dei fattori, cioè la cultura locale diventa quella russa piuttosto che quella polacca e si mantiene chiaramente la struttura italiana e la parte internazionale. Ecco, con questa piccola modifica, nel palinsesto generale, un esperimento del genere funzionerebbe quantomeno, diciamo per esperienza diretta mi sentirei di scommettere fortissimo, quantomeno in quella che una volta era chiamata l'Europa dell'Est. Poi non mettiamo limiti alla provvidenza, la cosa potrebbe andare anche oltre. Per far questo però ci vuole una grande azienda, ecco questo lo prendo un po' come un appello che rivolgo attraverso questa emittente, a persone lungimiranti, così come sono stati, come è stato il direttore Cirinna delle Assicurazioni Generali qui a Praga, che hanno scommesso su questa nostra iniziativa e che infatti è stato un gran successo. Ci vuole qualcuno con questo coraggio e con questa lungimiranza che sia pronto ad abbracciare questo progetto, a sponsorizzarlo e io sono certo che avrebbe un gran successo, ripeto, in tutte queste paesi dell'Europa ex dell'Est, diciamo così, ma sono sicuro anche molto oltre.